Bella a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, siamo qui oggi per un nuovo video di FIFA 22 perché ho visto che vi è piaciuto tantissimo il video precedente dello Squad Builder che lascerò qua in descrizione dove porto diverse squadre, quindi ho voluto portare questo format, quindi penso di riportarlo una volta ogni 3 settimane visto che continuo ad aggiornare i giocatori, partiremo da un minimo di 100k fino ad arrivare magari a un 5 milioni, 3 milioni che comunque essendo a novembre sono crediti che per questo FIFA si possono fare facilmente vi ripeto lasciate un like, iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Instagram e il canale Viola che lascio tutto in descrizione mi raccomando, allora iniziamo subito, sono partito da una base da 109k, quindi vi dico già una cosa in tutto questo video ho cercato anche degli investimenti perché molte persone dicono vendo, non vendo, investo su questo ci sono gli otv, ci sono le carte della Champions League, ho cercato di mettere un po' di roba anche per chi piace investire e fare crediti futuri allora partiamo dalla squadra da 100k, 100k abbiamo il primo investimento che è Malen, che è un giocatore che costava circa 16k sta aumentando perché il Dortmund è a 3 vittorie su 5, è una cosa che potrà fare, giocherà anche perché Holland è infortunato un bagatone che dovrebbe ricevere a breve, con queste vittorie anche una versione 83, quindi ne faranno un più 93 di velocità una buona finalizzazione, molto agile, peccato un po' per la freddezza ma come investimento ho preso a 32 magari rivenduto in futuro a 70, secondo me ci può stare ho scelto proprio giocatori base, quindi una difesa Upamecano, Tomori, Quadrado, Davis, Barella, Emre Can, Comandi, Bale, Chiesa giocatori rapidi, bagati, veloci, per una starter questa, per le prime divisioni diciamo ci può stare ma anche per il FU Champions visto quello che stiamo vedendo valore complessivo 110k crediti, facciamo 120k con vari stili intesa di qua e di là quindi una squadra alla portata di tutti passiamo invece al secondo team andiamo già su un 400k crediti ma perché ho voluto investire un po' più sulla difesa e creare una squadra un po' più baggata e con delle stelle skill allora, difesa Kimbepa, Kimi, Kurtweider, Militao Mendi, quindi siamo sul super super bug da questo punto di vista centrocampo De Jong, Wijnaldum, quindi giocatori che difendono e attaccano e che hanno delle ottime statistiche invece l'attacco ho preferito a farlo proprio a tutta velocità e super bug Depay, Yeder dovrebbero fare le punte, se volete perché ve lo consiglio così Ansufati a correre dritto per dritto con quel work it's bello bello è Dembele a fare l'esterno, finto esterno mettiamola così a destra dove si gira e tira e fa un po' quello che vuole quindi la cosa particolare è che ci sono due attaccanti con 5 stelle skill e due attaccanti con 5 stelle piede debole questo uguale è fattibile, fate sicuramente un upgrade alla difesa ma secondo me anche al centrocampo e questa ripeto è una squadra più o meno accessibile a tutti avrei potuto mettere un altro posto di Ansufati però non mi convincono avrei preso questo esterno ma ripeto per me è meglio Ansufati solleviamo un po' il livello, andiamo proprio sui veri investimenti e in questo caso ce ne sono parecchi El Sharawi, Correa, Tomori allora Tomori penso che in questi giorni riceverà l'upgrade a circa 83 visto che il Milan ha fatto le 5 vittorie ed è una carta che comunque potrebbe prendere un if perché fa delle partite mostruose quindi io vi dico ci può stare Correa è una carta che costava 16.627 prenderà sicuramente un if e l'Inter 5 vittorie le fa quindi andrà a 83-84 overall un'86 si può fare è una carta che diventerà molto agile con un ottimo dribbling buonissimi valori un po' solo potete solo guadagnare su questa carta perché comunque pagata 27 un giorno la rivendete tipo a 60 ci sta tutta El Sharawi confido che la Roma non faccia scherzi è una carta che peccato per il 5 stelle skill che non acquistano però agilità 99 ragazzi niente niente male se dovesse ricevere un 86-87 ci può stare per quella che la pagate Barella if lo conoscete tutti è un bel bagatone se vi state chiedendo come giocare con questa squadra che poi ho messo Gomez in difesa ma se ne parleremo io giocherei con 4-2-3-1 quindi giocherei con una roba del genere ok due esterni a corredri per diritti Correa che crescerà con gli upgrade che prenderà punto Jesus fa la punta un bel bagattone Barella che ovunque De Bruyne quest'anno è molto forte difende bene poi l'investimento Tomori con Gomez non ho voluto mettere un altro giocatore perché se no avrei dovuto mettere il nuovo Rudiger però io penso che possiamo tenerci su questo budget questa è una squadra proprio investimento stiamo investendo 90-30 quindi sono circa 160.000 160.000 crediti di giocatori investiti per farci crediti in futuro passiamo invece al milione perché ce ne andiamo proprio sul milioncino milione e due che è ormai i crediti che tutti riescono a fare e abbiamo proprio una squadra che rappresenta quindi Son Mane Punta Sterling esterno Marzial esterno Kante De Bruyne Kimbenpe Marchino Sakimi Donnarumma la difesa più forte di FIFA 22 per adesso e vi ho messo anche un possibile investimento per Amavi Amavi che anche questo costava sui 27.000 sta salendo a 46 visto i match di Europa League torniamo alla nostra squadra come gioca questa squadra? beh questa squadra ragazzi io la giocare sempre col 4-2-3-1 quindi abbiamo Mane a fare la punta Son a fare il trequartista Kante De Bruyne a fare quello che fanno sempre al centrocampo Sterling a sinistra Marzial a correre dritto a destra purtroppo non ci sono ancora in Premier quelle punte che ci permettono di switchare bene Marzial e poi il solito buggattoni quindi vi ho messo la cosa più semplice possibile qua abbiamo una difesa top e un attacco veramente molto forte tra il bug e la velocità penso che sia un ottimo team passiamo a 2 milioni qua vi ho messo sempre l'investimento di Tomori perché secondo me è una carta che sarà rotta appena uscirà Kimbenpe Mendy Walker De Bruyne Foden molto forte Mane c'entra avanti una carta pazzesca Salah Son un altro team simile all'altro però che costa ovviamente di più perché ci sono investimenti un po' più pesanti anche questa ragazzi io direi 4-2-3-1 Son a fare il trequartista e poi questa va da sola perché Foden Sinistra Sala a destra Cante dei Bruyne Tomori Walker Portiere del Milan Kimbenpe Mendy anche questa ragazza mi piace tanto non vi ho voluto mettere il solito Markings comunque sarebbe non cambierebbe numero investiamo su Tomori perché è una grande carta anche questa penso che sia più o meno più o meno accessibile a tutti a questo punto del gioco anche perché ovviamente avrei potuto mettervi anche la versione di Foden base potete anche farlo e risparmiate in qualcosa perché comunque questo Foden costa 59 però questa è una squadra di tutto dispetto chi tra iarda per bene passiamo alla penultima mettiamo la penultima squadra 2 milioni e 9 alziamo un po' l'asticella abbiamo diversi investimenti qua Werner che si è alzato tantissimo della Champions Upamecano che prenderà sicuramente le 5 vittorie se ne andrà 86 di overall qua ragazzi io la giocherei anche con un 4-4-2 quindi rimettiamo il 4-4-2 in game qui ne abbiamo Son Jesus e Werner punte Son esterno Kimi che è una carta pazzesca vi consiglio di provarlo Joe Cole che punta ha un bellissimo delimito questa carta oltretutto Fran Walker Upamecano Kant e Davis Davis che forse prenderà anche una carta Rule Breaker però questa già è una carta è una squadra con Werner che è una carta molto forte e buggata ma soprattutto che costava 800 adesso sta un milione quando prenderai più 2 questa prenderà altri 200k in più quindi diciamo una squadra un po' per chi è già oltre ok però con l'investimento anche di Upamecano che vi ricordo che stava a 90k continua a salire passiamo invece all'ultima squadra quella che è proprio assetto totale per chi ama competere chi è già oltre Ronaldo Bappe Neymar Messi Kant e Rudiger Alexander Arnold molto sottovalutata questa carta di Alexander Aldo Robertson che sicuramente ci verrà un più 2 di upgrade questa invece full 4-2-3-1 quindi Mbappe vado un po' contro tendenza qualcuno mi dirà cosa Ronaldo a destra Neymar sinistra Messi trequartista Bappe punta Bruno Kant e Rudiger Alexander Aldo Robertson Alisson questa ovviamente 5 milioni di valutazioni una squadra che vi può far capire anche come obiettivo dove andare ok continuerò a portare questo genere di video ragazzi perché escono continuamente carte ogni giorno escono carte escono sfide quindi bisogna anche mettersi di fronte a quelle che sono poi le richieste degli utenti e del mercato bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto porterò ripeto altri squad video durante l'anno questa secondo me è quella che mi piace di più a livello di investimenti spero che il video vi sia piaciuto ragazzi lasciate un like iscrivetevi al canale noi ci vedremo prossimamente per altri video sono anche in live sempre sul canale se volete seguirmi bene a tutti ragazzi ciao ciao